Inter Napoli, Coppa Italia? Certo, Coppa Italia, un incontro importante a San Siro, contro Napoli, davanti ai propri tifosi, come affrontarlo se non con un bel video pre-partita tattico, un bel video tattico, a caso, calciomercato, scoop, gossip, che ce frega, domani c'è la partita, e quindi vediamo un po' cosa potremmo vedere in campo, quali potrebbero essere le chiavi di lettura. 3-5-2 contro il 4-3-3 del Napoli, due moduli molto belli entrambi, molto efficaci, tutti i moduli sono efficaci in teoria, dipende come li si interpretano e che giocatori ovviamente si hanno, però sono due moduli, il 3-5-2 con il 4-3-3, che non si vogliono molto bene, quando si scontrano devono un po' prendersi le misure, e c'è sempre uno che vuole, diciamo, obbligare l'altro ad abbandonare le sue idee di base, e quindi bisognerà vedere chi avrà la supremazia. Io partirei innanzitutto però da uno spunto, uno spunto tattico, diciamo, dell'accesso alla manovra, della creazione, dell'inizio della manovra dell'Inter, con questo 3-5-2 in base al pressing del Napoli. Ovviamente ragazzi, spero che vi piaccia il video quando parlo di tattica e fatemelo sapere nei commenti con i like o semmai le condivisioni. Non ho scritto i nomi, non ho scritto i nomi dell'Inter, ovviamente Inter in blu, Napoli in rosso, per un motivo, perché voglio scriverli con voi, comunicarli con voi, finché vi spiego lo spunto tattico, e quindi capirete anche perché scelgo alcuni nomi e non altri. Piccola premessa, oltre al discorso tattico c'è anche il discorso della gestione, perché l'Inter entra nel vivo della sua stagione, perché c'è lo Scudetto, c'è la Coppa Italia, c'è l'Europa League, bisogna fare gestione, bisogna fare turnover in maniera intelligente, e quindi tenete conto anche di questa dinamica. Detto questo, perché voglio partire dall'inizio della manovra dell'Inter, quindi dal basso? Beh, perché ragazzi, il portiere, direi, più che il discorso, il portiere è un poeta, poeta dal greco, cioè poieo vuol dire fare, no? Costruire, fare, e quindi capite che è un costruttore di gioco in questo senso. Ma oserei dire di più, è un demiurgo, e demiurgo, il demiurgo, sempre dal greco, è uno che crea, è un creatore, il portiere è un creatore, perché in effetti, se ci pensate, prima che il portiere tocchi la palla, il gioco non c'è, il gioco non è, quando il portiere tocca il pallone, il gioco è, il gioco diventa, il gioco nasce, prima il gioco è fermo, non esiste, e quindi voglio partire proprio da lì, il portiere che deve pensare come iniziare l'azione, e come vedete l'Inter è disposta con un 3-5-2, no? Benissimo, però ovviamente il Napoli ti viene a pressare, almeno se vuoi giocare dal basso, no? Poi con le nuove regole dove si può partire anche dentro l'area, figuriamoci, verranno alti a pressarci, e noi di solito, di solito cosa facciamo? Se vi ricordate, se provate un attimo veramente locale, riusciamo a partire con un difensore, scaliamo verso un terzo di difesa, cioè è difficile che il portiere la calci lunga, vabbè, quello è un'opzione, però non la usiamo molto, no? Quindi partiamo dal basso, palla al terzo, e poi c'è sempre il quinto, no? Candreva, cioè mi viene proprio in mente sempre Candreva, che è una cosa che fa tantissimo, viene spesso incontro, si abbassa, quindi magari gli esterni si abbassano, prendono palla e poi la butta lunga su Lukaku in quel caso, no? O la punta comunque, a meno che non trovi il corridoio per il centrocampista o la mezzale o il mediano che viene incontro e magari si può creare una triangolazione, oppure è lui stesso che comunque la butta lunga. Questa cosa, secondo me, è sconveniente contro il Napoli. Perché? Perché? Semplicemente perché così daresti la possibilità, siccome i loro attaccanti esterni possono tranquillamente andare sui nostri terzi di difesa, daresti la possibilità con i terzini di accorciare, di salire e in generale con il resto della squadra, no? Questa cosa non mi piace, io voglio tenere alti gli esterni. Il 3-5-2 è forte quando riesce a tenere alti i propri esterni e quindi farei la cosa opposta. Esterni altissimi in fase di costruzione, a schiacciarsi quasi sui terzini o a tenerli comunque molto bassi, a formare una specie di linea a 4 quasi, no? In fase difensiva, diciamo in fase offensiva e quindi facendo quasi un uno contro uno, imponendo uno contro uno al Napoli, che deve quindi stare basso e cauto, perché non può permettersi di avere uno contro uno su tutta la linea difensiva, a meno che non ci sia il mediano che scali, diciamo in mezzo, ma così allora li obblighi a portare via un uomo dal centrocampo, no? Quindi è interessante, però ovviamente come fare a partire con l'azione, perché così ti esponi, come fai a partire dal basso in questo modo? Semplice, io porterei all'esterno e molto alti i terzi e quindi partiamo con i primi nomi. Se noi vogliamo un'operazione del genere, se vogliamo che i terzi si allarghino così tanto dall'inizio, beh probabilmente Bastoni ed Ambrosio sarebbero due terzi, diciamo, interessanti per questi ruoli, no? Anche dal punto di vista gestionale, perché hanno riposato in queste ultime partite, o per espulsione, o per altri motivi, e quindi stanno bene, io inizierei con loro e darei un attimo di turno di riposo a Godin e a Skriniar. Ovviamente a questo punto De Vrij rimane solo, a chi la diamo? Beh, vediamo che però c'è un uomo libero, il mediano, Brozovic. Quindi De Vrij, mi piacerebbe molto che si spostasse da una parte, attirasse a sé la prima punta, e a questo punto è il mediano, il nostro mediano che si abbassa e può impostare. Ovviamente a questo punto le mezziali devono stare però, diciamo, diciamo parallele, cioè sullo stesso, sulla stessa linea, no? Perché, se ad esempio giochiamo con Eriksen, e ovviamente Eriksen ha più una matrice offensiva, ma se stesse più alto, in poche parole, tu andresti a occupare il, diciamo, la zolla del loro mediano, avresti, avrebbero, avresti, rilasceresti una mezzala loro libera, quindi loro avrebbero una mezzala, e a questo punto non va la punta a pressare De Vrij, ma magari potrebbe uscire direttamente la mezzala, e la punta va sul nostro difensore centrale. Ok? Quindi a questo punto non puoi partire dal basso. Ecco perché in chiave, appunto, di possesso, Eriksen deve, dovrà fare la mezzala, dovrà stare più basso, in linea con Barella, secondo me. Ok? Poi in fase, invece, di possesso tuo e sulla metà campo, allora ci sta che Eriksen possa andare tra le linee, possa alzarsi, possa andare un po', in base alla sua creatività, a zonzo per il campo, in senso positivo, chiaramente, non in senso negativo che perde tempo ad andare in giro. Però, capite, questa è una cosa importante, bisogna che Eriksen tenga la mezzala occupata e non le dia la possibilità di andare a fare il pressing, così da poter avere campo libero con il mediano. Però, ovviamente, solo se riesce a tenere larghi i loro esterni. Se tu stai molto accentrato con i tuoi terzi, è un problema. È un problema perché loro, ovviamente, chiudono. Tu hai, sì, un mediano che prende la palla, ma sarebbe comunque velocemente pressabile dai loro attaccanti, no? La punta, per esempio, a questo punto potrebbe stare in mezzo, potrebbe non scegliere una posizione effettiva e a questo punto ti fa una prevenzione costante, no? Sul tuo portatore di palla iniziale. Quindi è molto importante che i terzi, secondo me, stiano molto larghi, se è possibile. Poi bisognerà vedere anche il Napoli, che scelte fa, questo è palese, però, teoricamente, la vedrei molto bene così, con De Vrij che va a decentrarsi e Brozovic che ha il campo libero per poter portare palla in avanti e per gestire, per manovrare a testa alta. Questa è una cosa molto importante. Poi, ovviamente, il resto viene da sé, nel senso che poi si creano tutti i vari triangoli, perché a questo punto qui è questione di tempismo, no? Se Brozovic ha il campo aperto e riesce a fare dei metri, sicuramente, magari, una mezzala può prendere, diciamo, le linee, le linee interne. A questo punto la loro mezzala non sa se seguirla o se andare ad accorciare su Brozovic. A questo punto, magari, c'è un esterno che viene incontro, l'altro rimane, magari, alto. Cioè, e si possono creare delle triangolazioni o degli sviluppi offensivi, chiaramente. Quindi viene tutto da sé, poi, il continuo dell'azione. Però, ovviamente, quindi, quali sono i nomi? Vi ho già fatto qualche nome, eh? Perché D'Ambrosio, perché Orastoni, perché qui, ovviamente, magari De Vrij, starei con lui, magari può giocare anche a Ranocchia. Però, onestamente, onestamente, visto che il Napoli sembra voler giocare con tutti i giocatori brevilinei, in teoria il Napoli giocherà con Mertens, con Insigne, con Politano, quindi con giocatori, comunque, bassi, tecnici, brevilinei, e quindi io contrapporrei a questo modo di stare in campo del Napoli altrettanta qualità. Non andrei con la fisicità, quindi cercherei di avere un centrocampo dotato di grande tecnica che possa giocare palla a terra. Barella, Brozovic, Eriksen, grande qualità, quindi, a patto che ci sia comunque diligenza tattica. Per quanto riguarda gli esterni, Moses. Moses, voglio qualità, sin dall'inizio, sulla destra. Magari Biraghi, sulla sinistra, perché, ovviamente, Young va un attimo gestito. Non possiamo, adesso, pensare di fargli fare tutte le partite una dietro l'altra. Biraghi, probabilmente, domani sera dovrà stare in campo. È un giocatore, forse, non di qualità come gli altri, però ci sta anche per dare un certo senso di equilibrio, tutto sommato. Anche perché da questa parte, se magari c'è Eriksen, ci sta che ci sia un terzino un po' più difensivo, no? e poi in attacco, Lautaro Martinez, che torna dall'espulsione, quindi è bello fresco, bello pimpante, ha voglia di riscattarsi, e magari con Sanchez vicino a lui, così da dare un attimo di tregua a Lukaku, che sta correndo tantissimo, come anche Vecino, per esempio, oltre che Young. Quindi questi sono i giocatori che vado un po' a sostituire. Per gestirli, per gestire un po' le energie, le forze, per fare il turnover, poi ci sarà anche la Lazio, e lì servirà avere sicuramente fisicità, completezza, una squadra bella compatta, quindi magari torneranno utili veramente giocatori come Lukaku, giocatori come Young, giocatori come Vecino, e ovviamente Skrini, Argodin, eccetera. Quindi questa è un po' la mia visione della partita, e della chiave tattica, diciamo. Dite voi quello che pensate, se vi è piaciuto lasciate un like, condividete il video, e noi ci vediamo assolutamente domani, dopo la partita, ovviamente per fare la solita analisi post partita.